...di Lara Fabian, stasera interpretato da Rita. Hai bisogno di una mano per l'asta? Molto bene. La carta che sei in casa non ti serve l'asta. Ok. Un forte applauso a Rita e bocca al lupo! La carta che sei in casa non ti serve l'asta. Che nel vento parla di te, quest'anima senza cuore aspetta te adagio. Le notti senza fine, i sogni senza stelle. Immagini nel tuo viso che scorrono all'improvviso. Mi fanno sperare ancora che ti trovi lì adagio. Chiudo le occhi e vedo te. Trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in te questa musica che ho inventato per te. Se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento. Accendi il tuo nome in cielo. Dimmi che ci sei quello che vorrei vivere in te. Il sole mi sembra spento. No 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 no... Abbracciami con la mente... Si me Rita senza di te. Dimmi chi sei, e ci crederò, musica sei, attaccio. Tutta la prova, le passioni, bisogna coltivarle e portarle avanti, veramente, guarda, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie.